Ben trovati con Mercati che fare, Mifid, l'applicazione di Mifid è ormai alle porte, dall'anno prossimo ci saranno gli estratti conto trasparenti, ci sarà massima trasparenza nel rapporto tra intermediari finanziari e mondo del risparmio e cercheremo di entrare ancora meglio in questi temi nel corso della trasmissione. Buonasera Massimo Esposti che è qui con noi, che ci accompagnerà in questa discussione su Mifid, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Noi abbiamo mandato intanto le nostre telecamere in giro per Milano perché vogliamo comprendere quanto quelle persone che dovrebbero essere più attenti a certi temi, visto che si rivolge al loro Mifid, sanno di Mifid. Vediamo che cosa è venuto fuori. Non so che cos'è Mifid, non so bene cos'è, so che me l'hanno fatto fare in banca, ma poi non mi ricordo più che cos'era. Mifid, boh mi sembra un partito politico. Mifid, no mi dispiace. Sì certo, è una regolamentazione a livello bancario che le banche devono rispettare, soprattutto nel momento in cui profilano i loro clienti. Vivo all'estero, non lo so. Mifid è la parte contrattuale da firmare per la clientela delle banche. Forse sarà uscito qualche annuncio, ma non l'ho guardato. Una nuova normativa legata al mondo finanziario. Io ho conti in due banche, nessuna delle due banche mi ha mai informato su questo. Mifid? No. Mifid? Cos'è, un fido? In banca ce lo chiedono, ma la maggior parte delle persone non sa cos'è. Mifid non so neanche cosa vuol dire, sarà Milano e qualcosa. Occorre che le banche si adeguino a tutte le direttive europee. Tutti quei fiscicoloni che ci danno da firmare, immagino ci sia qualcosa. Non lo conosco. Non commento proprio. Siamo proprio a zero. Io mi fido, ma più di quello non posso. Massimo, io mi fido, ma più di quello non posso. È simpaticissimo questa battuta. Devo dire che rispetto a quello che mi aspettavo prima che le nostre truppe uscissero, il risultato è migliore. Nel senso che abbiamo trovato più persone in grado di darci quantomeno un'idea di risposta. Tu che idea ti sei fatto invece? Mi sono fatto l'idea che se la risposta a Mifid 1 era boh, e a Mifid 2 è boh-boh. Nel senso che la gran parte delle persone, dei risparmiatori, si trova davanti di nuovo alla chiamata e si troverà davanti alla chiamata del proprio istituto di credito e dovrà firmare una serie di incartamenti senza, come diceva uno degli intervistati, poi alla fine capire il contenuto. Perché solo la spiegazione comporterebbe una sessione di una giornata intera per cliente. E questo, se da una parte dimostra l'accuratezza che è stata seguita nel preparare questa documentazione, che ricordiamo dovrebbe andare a vantaggio e a protezione dei risparmiatori, dei cittadini europei, degli investitori europei, dall'altra di nuovo genera quella gran confusione e quel rifiuto alla fine di quasi tutti di dire guarda, sì, mi faccia firmare ma alla fine non mi interessa, mi fido di lei. Ecco, però questo tipo di atteggiamento poi porta i risparmiatori all'atteggiamento opposto, a quello di fermarsi, non comprendere, quindi quando non si comprende poi non si fanno neanche le operazioni giuste nella gestione del risparmio. Questo è verissimo, soprattutto in una situazione di grande incertezza, a partire dall'Italia, ma comunque a livello soprattutto europeo, su dove destinare i propri sudati risparmi, i propri sudati investimenti. noi stiamo assistendo a degli spostamenti di flusso di denaro da prodotti strutturati ad altri o addirittura riconvertiti in liquidità. Questa è la dimostrazione e il campanello d'allarme soprattutto agli operatori del settore che dovrebbe suonare in modo molto forte proprio perché non si può abbandonare il risparmiatore e l'investitore nell'incertezza. Tu fai riferimento naturalmente a quello che sta avvenendo nel mondo del risparmio gestito perché gli ultimi dati usciti proprio due giorni fa ci fanno vedere, ci raccontano di quanto le persone siano disorientate anche e soprattutto sul mercato obbligazionario e in tantissimi stiano disinvestendo. Circa 6 miliardi sono usciti tra maggio, giugno e luglio, altri 700 milioni dei mercati obbligazionari sono usciti dal risparmio gestito ad agosto, ma quello che fa specie è che molto di questo denaro sta finendo, come accennavi tra virgolette tu, sui mercati monetari, quindi sui fondi monetari che hanno l'unica certezza di far pagare commissioni ai clienti. Per cui, che cosa sta succedendo? Dov'è la consulenza? Appunto, se lo chiedono in tanti, ed è in questo momento che una consulenza seria, veramente professionale, dovrebbe schierarsi con tutta la propria potenza di conoscenza dei mercati a difesa dei risparmiatori. Il risparmiatore in questo momento magari ha della forte liquidità, appunto come dicevo se l'è portata sul conto corrente, quindi tenendo conto che c'è la salvaguardia dei 100 mila euro, dice beh teniamolo lì, attenzione che tenendolo lì si perdono dei soldi, perché comunque depositare soldi in attivi comporta dei costi bancari e in più non ti porta a quello che potrebbe essere comunque un incremento del tuo capitale. Una doppia perdita, però in questo momento il sistema che dovrebbe con la nuova regolamentazione sancire la fine del fai da te in qualche modo non va in quella direzione. No, perché alla fine quando tu crei un'incertezza di base e non hai un perimetro ben chiaro dove fai una fatica, ma anche noi ho moderato degli incontri con operatori professionali proprio all'inizio di Mifid 2 e sentivi proprio questa anche inquietudine, soprattutto dal punto di vista di riflettere, dice ma quando io poi dovrò affrontare i miei clienti dal più piccolo al più grande, come potrò spiegare bene questa Mifid 2, come potrò spiegargli bene come affrontare le esigenze di oggi, di domani, fra 10-20 anni, viviamo momenti di grande incertezza anche in prospettiva del futuro. Guardiamo un po' nel nostro paese un servizio sanitario che sta andando molto male, la necessità di crearsi un secondo pilastro pensionistico per garantire gli effetti demografici, vedevo gli ultimi dati, addirittura nelle scuole sono diminuiti anche gli iscritti di famiglie estracomunitarie, quindi anche i nuovi italiani... L'ultimo rapporto dell'Istat sullo Stato dell'Italia è veramente indicativo in questa direzione. Quindi diventiamo un paese sempre più vecchio, con sempre meno abitanti in prospettiva e a questo punto non dico di fare alla giapponese che stanno studiando, che anche loro hanno una popolazione molto molto anziana e addirittura stanno ipotezzando di abbassare le tasse dei pensionati, perché il reddito c'è là, quindi cerchiamo magari di agevolarli. Tutto questo però non nasconde il fatto che comunque gli operatori del settore si stanno attrezzando ad arrivare alle applicazioni di tutti gli arzigogoli di MIFI dentro l'inizio dell'anno prossimo. Vediamo da questo servizio però che non sono solo gli operatori del settore che si stanno preparando tanto. Osserviamo. MIFID 2. Forse non abbiamo le competenze per capirla, forse pensiamo non ci riguardi o probabilmente non siamo stati adeguatamente informati. Fatto sta che quasi nessuno in Italia conosce la nuova direttiva europea in vigore da ormai nove mesi. Direttiva che mira a tutelare chi investe, rendendo più chiaro il rapporto tra risparmiatore e intermediari finanziari. Un settore quest'ultimo già da tempo al lavoro per sviluppare modelli di business più trasparenti e per creare nuovi servizi e prodotti che consentano di compensare il calo dei ricavi dovuto alla contrazione delle commissioni che MIFID 2 porta con sé. E se la macchina del risparmio è in pieno fermento per ridurre al minimo l'impatto MIFID, quella legale trova un varco per un nuovo filone di guadagno. Ecco quindi comparire fra le pagine dei giornali campagne pubblicitarie che offrono supporto legale ai risparmiatori che hanno subito perdite negli investimenti finanziari, creando l'illusione di poter recuperare il denaro perduto. Se MIFID 2 accelera la trasformazione in atto e sprona il mondo del business, il risparmiatore impreparato o senza un supporto professionale rischia di tornare ad essere, da protagonista tutelato, ad anello debole di questa catena. Facciamo un po' un paragone con il mondo del calcio Massimo. Qualcuno dice che oggi quando un calciatore non viene più utilizzato in una squadra il suo procuratore in qualche modo lo induce a trasferirsi in un'altra squadra per prendere un ingaggio diverso. C'è il rischio che questo povero risparmiatore, senza avere la consapevolezza dei progetti di vita che deve affrontare, poi venga sollecitato da qualche studio legale a dire, guardi, visto che il progetto che abbiamo realizzato di là non si sta realizzando, lo faccio spostare di là così, io prendo commissioni per l'operazione e il cliente paga comunque altre operazioni entrando su altri servizi finanziari. Beh è vero, insomma, i passaggi sono sempre costosi e anche questo interesse, diciamo, di far causa ancora prima di aver capito che cosa possa essere successo. Le anticipazioni sono molto chiare, le abbiamo viste su tutti i giornali nazionali. Vedendo il servizio mi veniva in mente, sai, quelle storie sugli avvocati americani che addirittura prendono un ufficio a fianco degli incroci più pericolosi dove si verificano tanti incidenti per cui corrono e danno immediatamente il bigliettino a quelli che sono rimasti coinvolti nell'incidente. Ecco, da questo punto di vista io direi però una cosa, MIFID 2 ci deve spingere a un passo forse importante in questo momento, ovvero proprio check up finanziario attraverso una consulenza seria proprio per verificare quello che dicevi tu, tra aspettative, necessità, le nostre vite cambiano, no? Continuamente c'è una fase della vita in cui si sta crescendo, si hanno magari dei figli piccoli, poi i figli vanno all'università, poi si diventa anziani, cambiano le esigenze, bisogna acquistare la casa, bisogna pensare a qualche altro tipo di sostentamento. Ecco, da questo punto di vista questo potrebbe essere uno spunto e uno stimolo per confrontarci e soprattutto andare alla ricerca di chi sia effettivamente serio dall'altra parte. Tu parli di consulenza di qualità, ma diamo un po' una sorta, perché l'abbiamo fatto tante volte in questa trasmissione, però la gente continua a scriverci, continua a chiedercelo come faccio a scegliere un bravo consulente? Innanzitutto la struttura a cui appartiene, poi? La struttura a cui appartiene è fondamentale perché deve essere una struttura di un certo peso che possa darti un ventaglio di opportunità, anche di investimento notevoli. Soprattutto poi, a mio parere, il vero consulente è quello che non viene a venderti, ma viene ad ascoltare quali siano le tue esigenze di oggi, di domani e di dopodomani. Cioè prima che dico i soldi ti parla di te. Esattamente, se io non ti conosco, è come andare da un buon medico, se tu dici, guardi, ho questo dolorino così, ah subito questa è la cura così, da un momento, ma lei che cosa fa? Poi scopre che come te gioca 800 ore al giorno a tennis, sto scherzando, e dice, per forza che le fa male il gomito. Ecco, da questo punto di vista, al di là degli scherzi e delle battute, proprio verifichiamo chi abbiamo di fronte, verifichiamo se effettivamente stia capendo quello che ci necessita o anche quello che non riusciamo a esprimere come necessità. Il vero consulente, il professionista nel settore degli investimenti è proprio questo, diventa il tuo vero alleato. E poi è chiaro che anche lui abbia un ritorno economico da questo tipo di attività, non è una no profit, ok? Ma in questo modo si crea una catena del valore in cui tutti guadagnano. Bisogna uscire, per certi versi, anche un po' dall'impasse di cui si parla tantissimo, che è quello che io definisco il blef dell'educazione finanziaria. Perché a me nessuno ha mai detto di essere un ignorante in materia medica nel momento in cui prendo l'influenza o una malattia leggermente più importante. Perché in campo finanziario invece scaricano tutta la responsabilità sui risparmiatori? Perché è comodo, no? Così tu praticamente gli fai un investimento sbagliato e poi dici beh però anche lei poteva anche accorgersene che magari stavano cambiando i mercati. Magari gli organi di controllo dovrebbero controllare. Esatto, perché lei no. E poi non è colpa mia, è colpa di questo. No, non scherziamo. Facciamo parte di un paese in cui le generazioni passate hanno costruito una ricchezza incredibile. Cioè 90% o di più. 10 mila miliardi fra immobili e liquidità. Ci ha salvato questo fatto ad esempio degli immobili di proprietà nei momenti più cupi della crisi del 2008 in avanti. I risparmi stanno salvando tante famiglie. Quindi diciamo non diamo degli sprovveduti agli italiani e ai risparmiatori. Diamo piuttosto dei furbettini a quelli che cercano di scaricare questo tipo di responsabilità. Ecco, la vera consulenza finanziaria esprime anche educazione finanziaria. Come in qualsiasi altro settore professionale. Se è un problema legale avrò approfondimenti di quei temi dalle persone che mi seguono legalmente. Assolutamente sì. Sì, quindi quando tu hai un'esigenza di risparmio di investimento o di trasformazione del tuo risparmio di investimento deve essere il consulente in grado di anticipare questa esigenza. Deve essere lui a venire, a dirti guardi ok abbiamo visto e sto seguendo la sua situazione da tempo a questo punto le sta, inventiamo, per scadere il mutuo della casa, sta per finirlo. Bene, lei ha già pensato, visto che riesce ogni mese ad accantonare questa cifra per il mutuo, nel proseguo che cosa fare? Cioè un piano di investimenti, dei fondi eccetera, per i figli, per lei, per la vecchiaia. Ecco, il vero consulente è quello che diventa l'alleato della famiglia. E allora dimmi fid chi dovrebbe parlarne, perché se continuiamo sulla falsariga di quello che dicevo un attimo fa, forse non hanno tutti i torti le persone che abbiamo intervistato per strada a non essere troppo dentro il problema o dentro l'opportunità. No, secondo me di Mifid 2 bisognerebbe parlarne, nel momento in cui vai a firmare dovrebbero essere in grado di, anche i consulenti, di spiegarti le linee principali. Anche allo sportello bancario. Ovviamente, perché poi vai a finire lì, a firmare quando ti chiamano, perché se no addirittura si blocca un certo tipo di operatività. Quindi devono spiegarti in linea di massima quali possono essere i tuoi doveri, i tuoi diritti, i rischi e non i rischi. Ma lasciamo stare poi i profili di rischio, perché ormai sono diventati quasi una barzelletta nel momento in cui viene profilato il risparmiatore. Perché alla fine, per cautelarsi ormai, non lo so, o ti danno del super esperto o dello zero assoluto. E quindi non puoi sottoscrivere nessun tipo di servizio finanziario. Se tu vai a dire, guardi che io non me ne intendo, e quello dice, allora mettiamo il zero, quindi vorrei fare questo. No, non può farlo. C'è speranza? Secondo te Mifid può cambiare in qualche modo lo stato delle cose o c'è il rischio che poi tutto quello che abbiamo raccontato finora anche nel servizio possa incidere negativamente? No, ma come tutti gli strumenti di regolamentazione vanno utilizzati e maneggiati da mani esperte, a mio parere. Quindi per quello che diventa fondamentale avere qualcuno, un consulente, chi ti segua, che sia prima di tutto super preparato, che abbia studiato la materia e che appunto ti eviti la frustrazione di non poter aggiornarti come dovresti perché non è nelle tue capacità, non è nelle nostre capacità di cittadini normali. L'alternativa possiamo consigliare, c'è un bel tomo che si chiama Capire la finanza, sono 750 pagine, ideale per addormentarsi in 30 secondi la sera. Pagina dopo pagina, magari due o tre anni, uno poi lo finisce. Ecco, la cosa importante è comunque un pizzico di informazione, prenderla. Noi ve lo stiamo dicendo, sentite parlare di Mifid, Massimo andate in banca, andate dai vostri consulenti e fatevela raccontare. Grazie per averci accompagnato Massimo con la tua attenzione e precisione come al solito, grazie a voi per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. Grazie a tutti.